Sì, prego, certo, è quello, vogliamo che parli. No, perché io volevo dire una cosa, l'umor nero a me sembra quello di De Luca, no? Ah, nerissimo. Cioè, tutti si sono inorriditi quando De Luca definì la raggi bambolina imbambolata, chissà, avesse fatto l'esa maestà. Adesso lui ha detto che, De Luca ha detto che... Ha la prostatite nei polmoni. Il direttore ha la prostatite nei polmoni, francamente ironizzando sul fatto sia che ha la prostatite sia che ha il covid, e tutti si sono sganasciati. Ora, De Luca ha fatto due o tre battute felici in passato, ma a me sembra che adesso lui abbia cambiato lavoro. Allora, sentiamo un amministratore, un cammino di destra, non può pensare di fare la campagna elettorale in questa maniera.